Ben ritrovati ed eccoci di nuovo qui a presentare delle splendide occasioni, tutte firmate MB Auto. Acquistare un'auto usata è molto difficile, ma non qui, all'MB Auto potrete acquistare il vostro usato con uno schiocco di dita. Tanti, tantissimi omaggi soltanto qui all'MB Auto. Per scoprirli dovrete correre immediatamente, uno di questi è il passaggio di proprietà o l'assicurazione RC Auto. Beh, che dirvi, affrettatevi! In un'auto usata occorre cambiare l'olio, fare il primo tagliando. Beh, nessun problema, qui all'MB Auto vi verrà omaggiato. E se hai un'auto vecchia, da rottamare? Meglio, qui la tua vecchia auto diventerà denaro. Sì, sì, vi faremo un notevole sconto. Sicuramente starete morendo della curiosità di conoscere qualche esempio firmato in MB Auto. Però vediamo subito Nissan Qashqai, tuo, da 150 euro al mese. Peugeot 208, tua, da 130 euro al mese. Opel Adam, tua, da 130 euro al mese. Fiat.evo, tua, da 100 euro al mese. BMW X3, tua, da 150 euro al mese. Citroën C3, tua, da 100 euro al mese. Lancia Y, tua, da 120 euro al mese. Toyota Ego, tua, da 120 euro al mese. Volkswagen Golf, tua, da 130 euro al mese. Mercedes classe A, tua, da 150 euro al mese. Fiat 500 L, tua, da 150 euro al mese. Fiat 500 L, tua, da 150 euro al mese. MB Auto anche per questo nuovo anno vi ricorda prezzi bassi, offerte e prestiti. Quindi che dirvi, alza la cornetta e MB Auto ti aspetta.